Notte di sbarchi a Lampedusa, da mezzanotte all'alba sono giunti 5 barchini con a bordo un totale di 80 persone, quasi tutti tunisini e una decina di libici. Ieri in meno di 12 ore siano registrati altri 4 approdi di 44 tunisini, anche i 5 gruppetti arrivati nelle ultime ore sono stati portati all'hotspot di Contrada in Miracola, dove si è arrivati a poco meno di circa 320 presenze a fronte di una disponibilità massima di 192 posti. A Lampedusa, fra l'altro, è andato a fuoco un furgone della Nova Facility, la società trevigiana che gestisce l'hotspot. Il mezzo serve proprio a trasferire i migranti dal porto al centro di Contrada in Miracola. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato che il rogo si propagasse ai rimorchi posteggiati vicino al furgone. L'incendio si è verificato all'alba. I primi ad essersene accorti sono stati i propri vigili del fuoco che stazionano e svolgono servizio di prevenzione all'entrata del centro di accoglienza. Adesso indagano i carabinieri. La tendopoli per ospitare i migranti in quarantena, che il governo nazionale intende realizzare nell'ex deposito dell'aeronautica militare di Vizzini, nel Catanese, è stata al centro dell'incontro di ieri tra i sindaci del Calatino e il presidente della regione siciliana, Nello Musumeci, alla presenza anche dell'assessore alla salute, Ruggero Razza. Bene, i primi cittadini hanno manifestato preoccupazione e contrarietà circa le decisioni assunte dal governo nazionale e ritengono inadeguate le strutture finora prontate, essendo non idonee a ospitare i migranti. Ancora una fuga di migranti dall'hotspot di Pozzallo. Nel pomeriggio sono andati via dal centro 15 profughi, ospiti della struttura, che si sono dispersi nelle zone circostanti. Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, ha dichiarato che la situazione è ormai insostenibile, non è più tollerabile.